Cambiamento per essere la parola d'ordine dei partiti che si stanno attrezzando per le elezioni amministrative 2014. Nel PD c'è un pululare, come direbbero quelli che parlano bene, di soggetti che sono disposti a dare il proprio contributo per il bene della città. Lo si legge nelle dichiarazioni sulla carta stampata, lo si ascolta nelle interviste, ciascuno a modo proprio vuole mettere a disposizione conoscenze e competenze. Si sta ovviamente parlando della candidatura a sindaco che pur se di questi tempi diventa un vero e proprio terno allotto e comunque una posizione di prestigio. Ma ascoltando le dichiarazioni viene subito in mente una domanda, ma la disponibilità passa anche per la candidatura al Consiglio Comunale? Perché chi bello si vuol far pene guaia da passare. Avrebbe più senso se il partito o la coalizione mettesse come priorità la candidatura al civico consesso e poi quella a sindaco. Non per una sorta di cursus honorum da rispettare, bensì per sottolineare ancora di più lo spirito di servizio, perché si vince con i voti di ciascuno. E le liste, e la palissiano dirlo, più forti sono, più voti prendono. Senza contare il fatto che le primarie per il PD sono ormai una regola, come dicono loro, di democrazia imprescindibile. E adesso che la componente renziana è sempre più forte, la dirigenza del partito deve fare i conti con i rottamatori che delle primarie hanno fatto ragione di vita politica. Non sarà facile mettere d'accordo tutte le anime, non sarà facile far comprendere a tutti questi contribuenti, tra virgolette, che la politica non è solo apparenza, ma anche senza. E l'essenza in questo caso non sono solo i contenuti, il progetto di città, la prospettiva di senso, ma anche i voti. Ed in queste elezioni più che mai dovranno essere cercati uno per uno. Sarà una lotta senza quartiere, casa per casa, porta per porta.